Ho avuto anch'io attraverso i giornali e sono rimasto anch'io stupido da questa decisione. Poi il Presidente avrà fatto le sue scelte che poi spiegherà comunque penso la squadra. È un periodo che si sta vivendo queste situazioni che magari i allenatori stanno facendo bene e poi vengono esonerati o andati via, però questo non ti so dire il perché di queste situazioni. Penso che ognuno avrà le sue motivazioni e il Presidente è sempre proprietario e può decidere quello che deve fare.